Con il mister Isidoro di Meglio, mister, com'è realzarsi dopo l'ennesimo passo falso di domenica? Ma, dobbiamo, gioco forza a riprenderci, anche se la partita di domenica potrebbe aver lasciato delle scorie nella testa dei ragazzi, ma ormai fa parte del passato, dobbiamo andare avanti e cercare di fare quanti più punti è possibile nelle restanti partite. Mister, credete ancora nella vittoria del campionato o abbandonate questo traguardo? In questo momento penso che non abbiamo da pensare a vincere il campionato, in questo momento abbiamo da pensare a ritrovare noi stessi, e poi ritrovare noi stessi, tra virgolette, perché comunque, ripeto, la squadra domenica la partita l'ha fatta. Purtroppo abbiamo avuto un calo di tensione negli ultimi due minuti che purtroppo hanno fatto sì che la partita si pareggiasse. Però, ripeto, dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a noi stessi nel momento. Mister, c'è una spiegazione o una motivazione come mai questo girone di ritorno ha incominciato con risultati abbastanza negativi? Ma, onestamente, non so darmi una spiegazione. Sicuramente abbiamo commesso degli errori, siamo venuti meno sotto il profilo caratteriale, sotto il profilo della volontà, della voglia, e purtroppo poi sono un po' gli episodi, un po' noi, è successo quello che è successo. Mister, domenica arriva il quarto grad, una squadra un po' tignosa da affrontare in questo momento. Quale insidie può nascondere questa partita? Tantissime, come le nascondono un po' tutte quante. Il quarto grad viene da una sconfitta in casa, però è comunque una squadra esperta, una squadra con giocatori di categoria che in qualsiasi momento ti possono creare fastidi. Dovremmo cercare di essere bravi, di sfruttare al massimo quelli che saranno gli episodi favorevoli e di limitare quelli sfavorevoli.